E' il sessantenne Rosario Palermo, l'uomo arrestato dai carabinieri di Acireale per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, la 22enne il cui corpo non è stato mai ritrovato. La donna era affetta da epilessie e da una menomazione al braccio e alla gamba ed era scomparsa da casa il 4 giugno del 2012. Palermo è l'ex convivente della madre della vittima. L'uomo ha fornito false notizie sui suoi spostamenti e cercato di inquinare le prove. Aveva raccontato che il giorno della scomparsa di Agata Scuto era andato a raccogliere lumaca nella piena di Catania e origano sull'Etna. Aveva convinto alcuni conoscenti a confermare il suo falso alibi e aveva sostenuto che quel giorno si era gravemente ferita ad una gamba a causa di una caduta in montagna. Per avvalorare questa tesi aveva cercato di nascondere in una località dell'Etna un tondino di ferro intriso del suo sangue, tondino che avrebbe voluto fare ritrovare per dimostrare il suo alibi e la sua innocenza. Intercettati in auto mentre parlava da solo, l'uomo, preoccupato di essere scoperto, avrebbe pure espresso il timore che il corpo e la ragazza, che era stata strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato, riflettendo pure sulla necessità di recarsi sul luogo per verificare cosa fosse rimasto del cadavere. Grazie. 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 Grazie.